Venerdì 17 i licei classici della nostra provincia vivono la loro notte bianca, arrivata ormai alla sesta edizione. Cominciò tutto quasi per scherzo in un liceo arcireale, però con un'onda che ha investito quasi 500 licei classici italiani, tracipando qualcosa di prezioso per il Paese, la maturità delle ultime generazioni. È una lunga notte che dal passato al proda al presente, con una lettura pubblica di studenti che affrontano diversi temi, i quali l'ambiente, il lavoro, i diritti, l'urgenza di restare umani. È tutto risalendo dalla grande cultura mediterranea, soprattutto greca, che poi è il pane del liceo classico italiano, ma è anche una notte dell'incontro tra scuola e comunità. Sono centinaia e centinaia di persone, fra studenti, genitori e amici, che insieme agli insegnanti stanotte esplorano le arti e il pensiero della civiltà occidentale. E con una gradevole sorpresa, che il liceo classico non solo è ancora molto vitale, ma risulta addirittura utile, fino a tempo fa non lo si pensava, per materie apparentemente lontane dalle materie cosiddette umanistiche. Come dire che il sapere è una realtà con fondamenti universali.